Un murales per la piccola Noemi, ferita gravemente da un proiettile, esploso durante un agguato di Camorra il 3 maggio 2019 in piazza nazionale a Napoli. Aveva appena 4 anni, venne colpita in pieno giorno mentre era con la nonna davanti ad un bar a pochi passi da qui, colorata una parte dell'opera che le è stata dedicata. Gli occhi della piccola Noemi, ha scritto in un messaggio il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, restituiranno un volto di fiducia e di speranza a quei luoghi segnati dalla memoria di un evento drammatico. Il murales, realizzato dagli artisti Giulia Salomone in arte Noeyes e Vittorio Valiante.